Musica Grande attesa ad Adrano alla mezzia terme per l'ordinazione episcopale di domani di Monsignor Giuseppe Schillaci, la primo vescovo nella storia di Adrano. Convegno oggi nella sede della città metropolitana di Tre Messieri etneo per parlare di infrastrutture, la Sicilia attende le opere che ad oggi mancano. L'archeoclub Ibla Maior scrive alla rivista L'Oneli Planet per chiedere una rettifica sulla descrizione utilizzata per la città di Paternò. Nessun danno erariale per il comune di Paternò a parlare, l'assessore Ezio Mannino che risponde al consigliere di Forza Italia Guido Condorelli. A Enna la squadra mobile ha arrestato un 39enne Davide Spitaleri per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, l'uomo faceva prostituire la convivente. E ancora in disequilibrio lo stromboli, la protezione civile nazionale ha elevato l'allerta a gialla, il vulcano resta sorvegliato speciale. Buonasera e ben trovati per questa nuova edizione del telegiornale delle venti di Ciac Tele Sud. C'è grande attesa ad Adrano ma anche alla mezzia terme per l'ordinazione episcopale di domani di Monsignor Giuseppe Schillaci, il primo vescovo nella storia di Adrano. Prevista anche la partecipazione di circa un migliaio di fedeli provenienti dalla Sicilia, da Adrano. Domani partiranno sei Pullman ed altri dieci da Catania. TVA trasmetterà domani la celebrazione eucaristica con un collegamento televisivo in diretta con la mezzia terme a partire dalle ore 16.45. Quella di domani, sabato 6 luglio 2019, sarà una giornata storica per la comunità religiosa danita perché sarà il giorno della consacrazione episcopale di una sacerdote di Adrano, il primo vescovo nella storia della città. Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo eletto di la mezzia terme, scelta operata da Papa Francesco e comunicata lo scorso 3 maggio. L'ordinazione episcopale di Monsignor Schillaci si svolgerà in un luogo all'aperto alle 17 di domani, lungo Corso Lumistrano, alla mezzia terme. Monsignor Schillaci oggi ha raggiunto la città calabrese, come mostrano le immagini di Orizzonti Ramettini, a bordo di un'auto guidata da un suo ex seminarista. Un arrivo semplice ed umile, quello di Monsignor Schillaci, che ha scelto proprio la mezzia terme come luogo della sua consacrazione episcopale. Una decisione non scontata, che i lamettini hanno molto apprezzato. Ad attenderlo alla mezzia, uno dei fratelli di Monsignor Schillaci, il vescovo eletto, è stato riconosciuto per strada ai cittadini che gli hanno rivolto parole di affetto. Già veramente sento questo clima familiare, mi fa molto piacere. C'è gioia eccellenza, c'è gioia. C'è molta gioia. Grazie eccellenza. Anch'io sento veramente questa gioia dentro. Spero di poterle esprimere piano piano, ma ce l'ho tutta concentrata. Quello di domani sarà un evento non solo per la comunità religiosa Lamettina, che accoglierà il suo nuovo vescovo, ma anche per quella catanese e adanita in particolare. Prevista la partecipazione di numerosi fedeli, circa un migliaio provenienti dalla Sicilia, dadranno in partenza domani sei pullman e altri dieci da Catania. L'ordinazione episcopale di Monsignor Schillaci avverrà domani per l'imposizione delle mani dell'Arcivescovo Metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, e dei Vescovi consacranti, Monsignor Luigi Antonio Cantafora, amministratore apostolico della Mezzia Terme, e Monsignor Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro, Squillace. Ieri alla Mezzia Terme e a Catania si è svolta una veglia di preghiera per il Vescovo eletto, Monsignor Schillaci. La nostra emittente trasmette da domani la celebrazione eucalistica e l'ordinazione episcopale di Monsignor Schillaci con un collegamento televisivo in diretta con la Mezzia Terme a partire dalle 16.45. Cambiamo argomento, parliamo di infrastrutture. Oggi se ne è parlato a Catania nel corso di una conferenza. Come detto, c'era presente tra gli altri il sindaco di Catania e il rappresentante della città metropolitana Salvo Pogliese. Si attendono le grandi opere. Vediamo. La Sicilia arranca anche sul fronte delle infrastrutture. Di questo argomento si è discusso oggi a Catania nel corso di un convegno organizzato dall'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, preseduta in Sicilia da Nino Dasero. Tra i presenti anche il sindaco della città metropolitana Salvo Pogliese, l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Marco Falcone, il presidente della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri Mauro Scaccianoce e il presidente dell'Ordine Giuseppe Platania. La mancanza di realizzazione di infrastrutture di fatto continua a desertificare la nostra realtà sociale ed economica della Sicilia. Gli enti che devono pensare a programmare e poi a fare i bandi perché i cantieri possono partire, di fatto sono tutti bloccati e fermi. Questo significa, ahimè, grande dramma per il futuro e grande crisi anche sociale e occupazionale. Allora l'AICRE Sicilia, che mi onoro di presiedere, vuole realizzare un momento di spinta, di pungolo, creando delle sinergie fra i vari soggetti per capire come superare le criticità e capire se è un fatto di burocrazia o di volontà e di mancata capacità di spesa delle risorse perché probabilmente li vogliono destinare ad altro. Se a questo aggiungiamo pure che il Fondo Sviluppo e Coesione, che è uno strumento che lo Stato usa per riequilibrare le realtà sociali del territorio del Mezzogiorno, viene con un aumentamento della rega spostato alle regioni, questo è un ulteriore elemento di preoccupazione. Io ritengo che gli ordini professionali, le categorie produttive assieme possono realizzare un momento di grande sinergia, di grande impegno, di grande pungolo. Questa è la speranza e noi in questo ci impegniamo. La regione è stata molto chiara, ha detto allo Stato che bisogna intervenire e bisogna intervenire con immediatezza, dando una risposta concreta e non più dilatoria. Noi abbiamo detto, ossia il privato a continuare questo progetto, anche col sostegno del Cassi e quindi col sostegno della regione siciliana, o lo Stato riesca a dare una soluzione concreta, cioè acquisisca immediatamente il progetto del privato e metta i soldi pubblici e inizia immediatamente l'appalto. Non è cambiato nulla, purtroppo abbiamo fatto dieci passi indietro, secondo me ci siamo impantanati e il rischio è che arriveremo a settembre senza aver concluso un bel nulla. Restando a parlare di infrastrutture, sono in arrivo 40 milioni di euro per le autostrade, A18 la Catania Messina e la A20 la Messina Palermo. Ad annunciarlo è il Ministero, il Via Libera, questi due importanti progetti esecutivi e ad annunciare la notizia, come detto anche l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, e le due arterie autostradali saranno ammodernate e messe in sicurezza, rispettando su asfalti e altre opere gli standard più moderni di efficienza e qualità infrastrutturale. E cambiamo ancora argomento, adesso parliamo di cultura, perché l'Acchio Club Ibla Major di Paternò ha scritto alla rivista L'Onely Planet per chiedere una rettifica rispetto alla descrizione che la rivista stessa che agisce in ambito turistico fa della città di Paternò. Vediamo. Una lunga lettera inviata all'editore della Guida Sicilia, L'Onely Planet Italia, per chiedere una rettifica rispetto alle parole non tenere utilizzate nel testo della rivista nella parte in cui si parla di Paternò. A prendere carta e penna il presidente dell'Acchio Club Ibla Major, Francesco Finocchiaro, che evidenzia come nella quarta edizione italiana pubblicata nel maggio del 2017 vi sono anche alcune macro inesattezze sul racconto della città, legate anche alla storia e alla presenza del Castello Normanno. Inesattezze apparse anche in un'edizione antecedente pubblicata nel 2015. Dirigendosi a ovest di Catania, sulla statale 121, arriverete a Paternò, si legge nella rivista. Una cittadina non particolarmente interessante, ma costruita intorno a un Castello Normanno. Eretto nel 1072 come difesa contro i Saraceni, il maniero è stato ricostruito varie volte nel corso dei secoli. Oggi rimane solo il torrione e la vista spettacolare che spazia fino all'Etna. Da qui la risposta del Presidente Finocchiaro. Mi rendo conto delle difficoltà nel descrivere un luogo dovute all'esigenza di sintesi che il prodotto editoriale impone, scrive Finocchiaro. Le difficoltà nel reperire la documentazione, che non sono sempre disponibili, e delle criticità che soffocano alcune realtà urbane, come l'accessibilità dei luoghi, dei servizi e delle informazioni. Un problema diffuso in moltissime realtà, scrive ancora Finocchiaro, descritta nella guida a cui questa terra, la Sicilia, deve porre rimedio. Tuttavia la città di Paternò è un'atlante di storie e di risorse monumentali, naturalistiche e antropologiche straordinarie, e le informazioni sintetiche che lei propone al turista sono inesatte e fuorvianti. Tra gli elementi evidenziati dal Presidente Finocchiaro, nella lettera, il fatto che Paternò nasce in una posizione strategica, lungo una via romana, poi diventata via francigena, che la rendeva una delle città più importanti del territorio, con un suo attracco portuale al fiume Simeto, che era navigabile. Lungo, quindi, l'elenco di puntualizzazioni, messe nero su bianco dal Presidente Finocchiaro, che per far toccare con mano e vedere di persona, ha invitato a Paternò l'editore della rivista Christian Bonetto. «Quello che le chiedo, scrive Finocchiaro, è di modificare la descrizione nella guida, e per questo mi sono permesso di proporle una soluzione possibile. Dirigendosi a ovest di Catania, sulla statale 121, arriverete a Paternò, una città ricca di storia, costruita sopra un antico vulcano, da cui si gode la vista della valle del Simeto e dell'Etna. L'acropoli ha testimonianze greco-romane, arabe e normanne, da vedere il castello, i monasteri, le chiese barocche, i musei e il fenomeno delle acque sulfure delle salinelle». Restiamo a Paternò, nessun danno erariale per il Comune di Paternò a parlare. È il Vice Sindaco Ezio Mannino, che risponde al Consigliere di Forza Italia, Guido Condorelli, al centro della questione, l'incarico alla ditta Maggioli per la gestione del software del Comune di Paternò. Assessore, parliamo del software Maggioli. Nei giorni scorsi c'è stato qui il Consigliere Condorelli con una lettera di Forza Italia che evidenziano i maggiori costi per il Comune di Paternò. A me spiace che una forza politica come Forza Italia, rappresentata da consiglieri comunali di tutto il rilievo, non riescono o non vogliono leggere in maniera attenta quelle che sono le determine prodotte da questa amministrazione, in particolar modo dal dirigente. Non esiste nessun costo aggiuntivo, lo dico in maniera chiara prendendome le responsabilità, e questo si legge nella determina, perché il costo viene disimpegnato, e quindi detratto da quelli che era l'impegno, e quindi il costo totale del servizio, esplicato da Maggioli. Nello stesso tempo, quello che scrive nella nota stampa Forza Italia è ingannevole, perché parla di 7.000 euro della detrazione di costo, ma realmente non è così, perché sono 7.000 euro più IVA, il costo è annuale di circa 9.000 euro, mentre il costo complessivo dei 27.000 euro si riferisce al biennio, mentre 9 più 9 fanno 18, si riferiscono quindi ai due anni. La differenza di costo è quella dovuta all'attivazione, e anche quella, si legge perfettamente nella determina, viene incriminata alla Maggioli, viene detratta alla Maggioli, in quanto responsabile del disservizio ottenuto. Questo è tutto documentato, viene riportato nelle determine. È chiaro che i consiglieri di opposizione fanno il loro lavoro. Molte volte, a mio avviso, vengono forse indotti da qualcuno che magari ha ancora il dente avverenato rispetto a questa amministrazione, ma diventa forviante e si fanno portare su una strada sbagliata. Mi dispiace, ripeto, che i consiglieri comunali di tutto rispetto si facciano pilotare da qualcun altro. Noi siamo disposti al dialogo e siamo disposti a leggere le determini. Forse qualcuno non li riesce a leggere bene, ma è doveroso da parte di questa amministrazione fare le dovute considerazioni, fare dei chiarimenti, perché non c'è nessun costo aggiuntivo. Tanto è stato detratto a Maggioli che gestiva parte del servizio e quella del personale e lo stesso costo del servizio è stato impegnato a favore della nuova azienda che gestisce il software del personale. Quindi non è stato fatto nessun danno all'ente. Anzi, abbiamo ottemperato a una inefficienza da parte di una software house sostituendola con un altro senza alcun costo aggiuntivo per l'ente. E adesso ci fermiamo per la pubblicità. A dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo. Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza realizzando impianti fotovoltaici sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie dall'installazione all'assistenza post vendita fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power da Energreen Power Offerta di primavera Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019 impianto da 3 kilowatt chiave in mano a 3.000 euro più IVA 10% per un totale chiave in mano tutto incluso di 3.300 euro Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kilowatt l'azienda ha deciso di estendere l'offerta proponendo in alternativa un impianto da 6 kilowatt a 6.000 euro più IVA 10% per un totale di 6.600 euro per installazioni standard. Per info e sopralluoghi chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408 Energreen Power contrada a Tre Fontane Paternò visita il nostro sito internet www.energreenpower.it E torniamo in studio parlando di cronaca nera i carabinieri della nucleo operativa radio mobile della compagnia di Paternò hanno arrestato il 36enne Francesco Alleruzzo accusandolo di evasione dai domiciliari l'uomo che è sorvegliato speciale stava scontando la condanna ai domiciliari ma anche questa volta ha evaso proprio la pena a cui è sottoposto visto che i carabinieri lo hanno ritrovato e fermato in via Matera il giudice poi giudicandolo per direttissima ne ha disposto l'arresto e sempre i carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato il 42enne belpassese Antonino Fichiera anche lui è sottoposto a sorveglianza speciale è stato ritrovato dai carabinieri a piedi per le vie del centro di Belpasso a Enna la squadra mobile ha arrestato una 39enne Davide Sfitaleri per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione l'uomo faceva prostituire la convivente decidendo anche i clienti prezzo e persino la durata dei rapporti sessuali faceva prostituire la fidanzata convivente nel centro storico di Enna stabilendo tutte le modalità con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la squadra mobile di Enna ha arrestato un 39enne Davide Sfitaleri l'uomo come detto faceva prostituire la convivente decidendo i clienti che spesso erano tutti di elevato eccetto economico il prezzo e persino la durata delle prestazioni sessuali le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Enna sono iniziate nel marzo scorso gli agenti infatti hanno rintracciato sul web molti annunci in cui si pubblicizzavano incontri sessuali a pagamento con la foto della donna rapporti che poi si consumavano in un appartamento che la donna aveva preso in affitto nel centro storico di Enna gli inquirenti attraverso il sistema di videosorveglianza nell'appartamento dove si consumavano i rapporti sessuali hanno evidenziato la presenza frequente dell'uomo il quale dalle varie intercettazioni telefoniche si presentava come protettore di altre prostitute il 39enne infatti forniva alla convivente che faceva prostituire protezione contro i clienti per così dire più focosi l'uomo dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Enna i carabinieri di Catania hanno arrestato un 58enne di Siracusa per tentata rapina e furto aggravato il ladro in trasferta è entrato in una tabaccheria di Eviale Libertà cercando di arraffare Gratta e Vinci il titolare scoperto il ladro ha tentato di fermarlo e per tutta risposta è stato aggredito sul posto allertati da un testimone sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato poi il ladro ed è ancora disequilibrio lo stromboli la protezione civile nazionale ha elevato l'allerta a gialla il vulcano resta sorvegliato speciale intanto alcuni turisti hanno lasciato l'isola altri hanno deciso di restare lo stromboli è ancora in disequilibrio i tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti e la protezione civile nazionale ha elevato l'allerta giallo così l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania sullo stromboli alle olie che resta sorvegliato speciale dopo le violenti esplosioni di mercoledì 3 luglio che hanno causato anche una vittima il 35enne Massimo Invesi mentre faceva escursione escursioni che nel frattempo sono state vietate per precauzione dal sindaco di Lipari Marco Giorgiani per la prefettura di Messina siamo ancora in stato di preallerta all'unità di crisi attiva da quando si è verificata l'esplosione da registrare inoltre alcuni terremoti di piccola energia sotto magnitudo 2 probabilmente come effetto dell'assestamento del vulcano che sono stati avvertiti ma non hanno creato alcun danno la zona maggiormente colpita resta la piccola frazione di Ginostra se alcuni turisti hanno lasciato l'isola altri invece hanno preferito restare chiaro però che sale sempre più la preoccupazione non solo di altre esplosioni ma soprattutto che gli eventi di mercoledì scorso abbiano potuto compromettere la stagione turistica sull'isola delle Olie e con questo servizio è tutto io vi auguro una buon fine settimana